Lo chiediamo al tenente colonnello Guido Guidi, buongiorno. Eccoci, una buona giornata, buongiorno a tutti voi. Bello il tempo in questo venerdì, bello il tempo anche nella fine della settimana con cielo che sarà per lo più sereno, poco nuvoloso, a più qualche velatura che potrà passare nella giornata di domani in un contesto di temperature anche davvero gradevoli. Il dettaglio della grafica, solo poche nubi che potranno affacciarsi al ridosso dei monti in giornata, le prime nubi da calore della stagione senza effetti. Ovviamente poi c'è lo sereno con ventilazione che va attenuandosi, il muoto un loso del mare che va scemando. Andiamo a vedere le temperature, un po' più basse ovviamente nelle prime ore del giorno, differenza giorno-notte accentuata, ma anche per effetto veloso. Davvero gradevoli temperature che arriva nelle ore centrali della giornata, oggi come nei prossimi due giorni. Concludo dandovi appuntamento naturalmente alla prossima settimana, ma anche a domani mattina perché domani è la giornata mondiale della meteorologia e il Servizio Meteorologico e l'Aeronautica Militare, il CNR, l'Università della Sapienza e l'Associazione AISON dovranno un incontro all'Aulamagna della Sapienza domattina alle 10. Siete naturalmente tutti invitati se volete. Buona giornata, buona fine settimana. Grazie e buona giornata al tenente colonnello Guido. Guidi adesso il traffico sulle strade di Roma, ci aggiorna in diretta dalla polizia locale Sandro Vannozzi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Rallentamenti nel...